qui a streme from Vinci c'è il mercato no e ora? ha dei fattati guavoli dove? c'è il mercato a Vinci il mercato orionale dell'artigianato del no, ti fanno fattare l'antena un arrotino Ivano l'arrotino Ivano l'arrotino non è cazzo qui dove dove andare ora? allo spettatore che ci sta guardando goodbye, good luck ciao Manny e Laura si accende la scheletta no, la fila no dai la fila si la fila si la fila no la fila si deve marasma dove la devo a destra? si per qui sotto c'è un bel mercatino a Vinci la fila che cazzo non è la fila che cazzo la fila si la fila no l'inforzata e Grazie a tutti.